Novantesimo congresso italiano di Esperanto Naudeka Itala Congresso di Esperanto Ci sono anche alcuni autoritati che ora hanno la parola e poi ci vediamo il comienzo Quindi con noi ci sono la vice-urvestrina Dr. Beatrice Kelly Cio un ue havas la parolvizzon, dankon, cai mi volas anche o danki la urbodomo, la urbestro cai la diversa estraranoi della comunmo cioi ecde uno monato estas citie chier estraro do ili estas novuloi cai por multai elili estas noasperto do anche augurili estes momento ne trofazzila la tango in tuianta o la congresso do ienne Beatrice Kelly Buongiorno innanzitutto benvenuti nella città di Montecatini Terme io sono Beatrice Kelly come ha detto la nostra Presidente sono qui in rappresentanza della città come vice-sindaco e assessora della cultura del St. Unesco Mi è stata Beatrice Kelly che mi è stata Svizzur Vestrino di Montecatini Terme che mi è stata anche auscaveno per il cultura e il turismo Buon effetto sono sostituisco il sindaco che ho avuto un imprevisto stamattina doveva esserci lui per cui mi ha pregato di essere presente e io lo faccio con il nostro piacere benvenuti nella città di Montecatini Terme che da tre anni è diventato patrimonio dell'umanità Mi è stata la Svizzur Vestrino che aveva avuto l'allia di Devon che non poteva partecipare con voi Mi è stata la Svizzur Vestrino di Montecatini Terme che io ho avuto tre anni di questo parto con l'allia di urbo del Varm Baneio in Europa parto della comara patrimonio avagio di Unesco Montecatini Terme non è sola in questa candidatura che poi si è trasformata in sito ma è insieme con altre dieci città termali europee e coinvolge altri sette paesi la nostra candidatura Vi dico questo perché il vostro convegno rappresenta anche uno degli scopi dell'Unesco ovvero sia l'esperanto un linguaggio universale diciamo che non appartiene a nessun popolo ma appartiene diciamo all'umanità globalmente è un linguaggio che favorisce il dialogo e la comprensione tra i popoli e anche dunque diventa un linguaggio promotore di pace e effettivamente il titolo è ancora più ravvigato via cesta anche gli esperantisti ciò è sperato che la lingua più promozione la pazza nell'internazio è evidente molto prossima alle desideri dell'Unesco e mi sento che la due acchierate la titolo parte della posizione e cultura dell'Unesco e la parte prima che la accetto del congresso dell'esperanto è il confandiggio e la ideale dunque siccome le cose non avvengono mai per caso sono sicura che nasceranno dei contatti e delle idee che ci porteranno sicuramente del bene e dei messaggi importanti Certo, non siamo l'eroe o casa vera e azarte mi sono convincita che ti unire in contigio ma fermo più in contatto e più lavoro per chi un comune ne può fare e uno ha lì a diretto, senza due Allora, mi ha fatto presente Brunetto che nel 67, non è la prima volta che a Montecatini avviene questa importante riunione perché già nel lontano 1967 c'è stato il primo congresso europeo dei giovani esperantisti proprio qui a Montecatini e anche nel 68 invece c'è stato il secondo il primo congresso nazionale cioè il secondo congresso, il primo congresso nazionale della federazione esperantista italiana dunque direi che questo è un appuntamento che si inserisce in questa scia Ne è stas parte la unua foglio che sperantistoi venas al Montecatini Terne e nel 1987 in Pasco la unua esperantistoi d'Europa che si è stato il primo congresso nazionale in Montecatini Terne che la seconda è stata in 1906 e siamo in casa in un'azia italiana congresso di esperanto in Montecatini Terne dunque adesso vi auguro buon lavoro non vi rubo più tempo ma mi permego a sottolineare queste cose che mi sono venute in mente stamani quando appunto il sindaco mi ha detto cortesemente un contrattempo vanno a sostituire e dunque però non sarà l'ultima volta che ci vediamo perché io avevo in programma di più dei vostri lavori e sicuramente vorrei fare qualche capatina diciamo così nelle vostre sessioni di lavoro vi ringrazio spettamente per essere qui auguro a tutti buon lavoro all'insegna del dialogo e per la pace applausi le mie parole sono lunghe ci sono giusto il cimattino che mi deve sapere che non vengono per via fermo che ci siamo in questo pianeta se anche per l'amore fermo mi preparo rapidamente che ci sono noti per via le parole sono per via fermo e mi provo anche a venire in alcuni eventi della Semaino per curiosi intervisti grazie grazie molto grazie Beatrice per la bella e porto che ci usano per la malferma del nostro congresso e ora abbiamo dove ci sono federalbergi sed federalbergi è stata l'instituzione che ci aiutano non dopo il problema con il congresso e i hoteli quindi mi voglio offiziali dacci anche a federalbergi per la help che ci ricevano servizio che erano la Presidente per esempio nella gazetta servo e ora l'un alia gasto molto grave per noi è il Dr. Stefano Barlacchi che è la consul e l'honore consul di Citi grazie in Italia in Toscania perdono e noi avevamo tre buoni rilatti con lì e con la tutta con lei e mi voglio ricordare che in il mio congresso la Playmult Nombra Exerlanda Gruppo Estas La Pola do ien la parolizzo alla consul Dr. Stefano Barlacchi non è usa questo lei solo per tradurre grazie buongiorno sono molto vieto di partecipare a questo importante evento che raccoglie tanta storia nel mondo e che ha origini in Polonia e sono molto lieto di rappresentare davanti a un pubblico così ricco così colto la comunità polacca di Toscana conosco ormai il gruppo degli esperantisti di la consul la consul saluta la consul saluta l'in che ti buon venite di felice di felice rappresenti la Polan comunale che rappresenti la Polan comunale QSS grava parto della 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 gruppo degli esperantisti da circa un anno e con loro abbiamo già realizzato tanti incontri questo è soltanto un ulteriore step un ulteriore momento di di unione di collaborazione nello spirito fondativo della vostra lingua la consul siamo con la esperanta Murado e di un chiaro che le sue collaborano con noi con la Murado per gli molti eventi bene Biowistock è giovane frizzante e anche malinconica è una città dove fino agli inizi del ventesimo secolo prosperavano arti e sapere mercati che profumavano d'Oriente e carrozze sempre colme di viaggiatori di ricca che ci sono che delle sono loro sono sicuro che da começo di alcantarie preferite arti e spiei mercati che abbiano profumo dell'Oriento, che i vagoni di essi ci amano molto i voyagianti. A Piavostok nel 1859 nacque Ludwig Leiser Zanenow, medico pulista, linguista e glottoteca, polacco di origine ebraiche che aveva un solo sogno, inventare una lingua che permettesse di far dialogare popoli diversi, abbattendo i confini sociolinguistici e portando ovunque pace e fratellanza. Una lingua semplice ma espressiva, che appartenesse all'umanità intera e non ad un solo popolo. Ci riuscì e creò l'esperanto, il vostro esperanto. In Piavostok nel 1859 nacque Ludwig Leiser Zanenow, oculista, neubista e lingua creista, pola, dei giudai o dips fortino, che avevano solo un regno. In venti lingua, che evitano parlare bastano popolo, fariti limo in sozzi lingua, che portano cien, pazzo e tratezzo. semplice, 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 che appartenesse all'umanità, ma non solo all'unico popolo. Il successo crea l'esperanto via l'esperanto. Zanenow dunque incarna perfettamente lo spirito polacco, quello dell'essere avanti, dell'essere per tutti, quello del dialogo includente e della speranza che non muore mai. Molti sono di tutti gli uomini polacchi che hanno donato all'umanità intera virtù, valore e conoscenza. Niccolò Copernico, Josef Piusulski, Wadidval Anders, Lech Wawensa, Karol Wojtyla, nuovi nomi illustrissimi. E perché no, anche Albert Sabin, anche lui medico, anche lui nato a Biawisto, e anche lui creatore di qualcosa di utile all'umanità, il vaccino contro l'appoglioniente. Ma il congresso di oggi richiama naturalmente la personalità di Zanenow, quale grande uomo di visione e di intuito pragmatico. Zanenow realizzano la polana spirito, la spirito essi antao, essi antao, essi porcivi la spirito dell'inclusiva dialogo, che spero che non siamo morti. a Biawisto. A Biawisto. 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 oggetto di spartizioni e discriminazioni, si rese conto ben presto che i problemi di comunicazione con le diverse rappresentanze linguistiche generavano situazioni di conflitto o di incomprensione tra le persone e le diverse comunità. Zanonov è parte della famiglia che si trova in l'Orientaparto di Pallando. Lì c'è un'idea per la cultura, per il contesto, per il contesto, per il contesto, per il contesto e per il contesto. Lì comprens tui che la comunica e i problemi inter la lingua e i comuniomoi crea situazioni, crea conflitto e malcomprenoi intercomoi e facciamo il comuniomoi. Per questo il suo sogno divenne quello di costruire una lingua internazionale, che in questi giorni voi qui celebrate, che diventasse strumento di pace universale. La sua era una visione molto utopica di un mondo in cui tutte le persone, pur essendo nate in luoghi e contesti differenti e mantenendo un legame con la loro terra d'origine, potessero rapportarsi tra loro come esseri umani prima che come membri di una determinata nazione. Per questo Zanonov immaginava l'Esperanto come la prima lingua di nessun popolo e la seconda lingua di tutti. Per questo Zanonov immaginava l'Esperanto, che ci sono piaciuti, che ci hanno fatto un'ultima migliore, che ci hanno avuto la loro vita, che si hanno avuto un'università di un'altra lingua, Sì, questo è un'utopia per il mondo, per tutti gli uomini, come si scrivono i miei luoghi e i miei contatti, e, avanti, l'Igor, con una demena, l'Ando, l'Igor Pobus havi dialogo intervii come gli uomini e come gli uomini della nostra nazione. Per Dio, Sanemmo immagino e sperando come la unica lingua del mio popolo e la due lingue per tutti. Il lascito di Sanem offre quindi di profondo valore sociale ed umanistico. La cultura esperantista, infatti, è molto attiva in tutte le arti, dalla poesia alla letteratura fino al teatro e alla musica e, grazie alla sua logica semplice e maneggevole, si presta ad essere usata anche in informatica e nel ramo della linguistica computazionale. L'esperanto poi in Polonia è stato dichiarato patrimonio culturale immateriale ed è oggetto di studio in diverse università in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia. la heredagio del Sanem è stato la heredagio del Sanem hava gravan social valoro e la heredagio del Sanem hava la cultura, l'esperantista cultura, è stata creativa in tutti i attori di poesia, della letteratura, del teatro e della musica. e anche alla sua logica semplice e facile usata, speranto possa essere usata anche in informatica e in computica linguistica. e speranto in Polonia è stato dichiarato la cultura e la heredagio che è stato studiato in molte università in Europa, in Usono e in Dio. Saluto e ringrazio la professoressa Laura Brazzabeni, presidente della vostra federazione per l'invito a queste importanti assise in questa giornata inaugurale porgo i miei saluti a tutti i componenti del vostro direttivo alle autorità, alle eccellenze, ai rappresentanti di questa splendida municipalità di Montecatini Terme sempre in rente ed accogliente ovviamente saluto anche la vice sindaca Beatrice Kelly che ci ha dovuto lasciare tutto l'organo di governo della città ed auguro alla vostra ricca comunità di continuare a diffondere con orgoglio e passione il sogno di Samenhoff nella società e nel mondo. Grazie a tutti. La consul saluta e ringrazio la professorina Laura Brazzabeni, presidente della Speranza Federazione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciui anno dell'estraro salutano l'autorità e il rappresentante della comunità di Montecatini. Ci siamo attenti e bella e vi saluto tutti i partoprenanti. Anche vi saluto l'avizio dell'orbestrino Berlice Cervi che vediamo in dei fuori. Quindi, grazie e buon lavoro. In nome dell'Italia Sperato Federazione, che è il Presidentino, mi ringrazio di venire all'Italia congresso. Mi aveva ben oriente qualche problema e mi vidi sed, mi vivi, che mi travivi cion. Mi volessi anche io metter parole per la congresa temo, per diversi afferroi. Mi vidi che tempo manca e mi avevamo tutta la settimana per trattare cion. Do alberi alcuni saluti dei fami, io mi dirò, esperantisti. Uno è il tuo, Renato Corsetti, che mi ha formato il saluto ai partoprenanti dell'Italia Sperato Congresso. E vi dirò il saluto, mi voglio essere, se l'Africa, il viaggio è troppo stile per chi non mi ha successo ai partopreni. Lavoro, amusigio e montro alla esperanta mondo cion esperanto asozio con clare idee oi povas fare. Renato Corsetti Grazie 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 electis inter Ili nur du nomoin, du historie in figuroin cui pleieristare cae simbole representas Nian Pasinton. Uno el Ili estas profesoro Giorgio Canuto iama rectoro della Università di Parma. La alia estas Ada Sikorska dum tridec variarui onorofizia redactorino della fama Geroldo de Esperanto. Mi aplaudo al Ili in Bracumo la veterano in decimi tempi. Giancarlo Figliera. Cae ancao ao venis salut messagion de Ruben Sanchez segretario de AIL del Argentino cari che amico in nome dell'Argentina muvado mi desirass al vicivi aggravan cae fruttodonan congressum adon en urbo Montecatini. Ruben Sanchez Buone e cae porne steli alian tempon al niai gastoi cefe Nicchiel Italia esperanto federazio non donas la parol vizzon al tanker charters presidenzio presenti la congressum temon cae fari la ufiziala prelega inaugurano tanker charters presidenzio de UEA buona matenum e gran saluto al cio eri estas cio por mi plesuro veni alla Italia estelanto congresso mi memoras trebone san benedetto per pronto esti sesteta anca assiso cae do estos por mi gran plesuro de nove esti cunvi char pur UEA la Italia esperanta federazio havasa partan locco nel ne coro ripara sere brillan lavoro pre informato generale cae en mia nova strategia plano labor plano li havas far colono cae tivi colonoi estas ciri tivo estas collaborato cae ne vidis che anca vi devis multe collabori por stagini citi un congresso ciugliare uno la ple gravi naziai congressoi cae uno la ple internaziai della naziai congressoi do tiu laboron vi far asprilio cae la dua colono estas informato cae comunicato cae diver tre gioi svi di autobusoi con suscribitei messaggio in frie esperanto vi boni relatas con amas comuniciloi dover tiu estas ege laudinda cae frie relatoi con la exterra mondo tria colono vi ancao tre boni boni faras chiam ir rilatas cun educai instanzoi cun la locai instanzoi mitre dankas la visu vestrinum pro la velai vortoi cae aparte nia consulo char vere li compremis la spiriton desperanto cune boni do mine parolos tre longe char mine volas che mia gasto devu suferi tre longe ne comprenante la prelegon cae ancao pro la facto che vi povos asculti min cae ilona cod diciuce estas cod ni pri la congresa temo dum la maternoi cia mi presentos pri intercultura competento cai trie char mia messaggio estos tre simpla cial simpla esperanto por lingva cae intercultura competento cial esperanto estas tiel el stara por lerno de lingva competento effective mi dum plurai arroi studis la poliglot intio estas la multlingvuloin chi vishatas lerni plurai lingvoi cai mi trobis en inquieto chion mi fari santo quel ca iarroi che estas tri gravi fattoroi en l'alernado de alia lingvo uno estas motivado ciubi desiras lerni alia lingvo ciubi pro la lingvo men au char la lingvo malfermas la porton al inter personai contactoi con individui tra la tuta mondo almeno en iwi culturoi cai por la poliglotoi multai venis alla lernado de lingvoi nur char passinis iri lingvoi sed pos chiam ili conatitis con parolanto de tivi lingvoi ili comprenis che pli gravis la cultura lernoi la cultura contactoi cai tio vere fin fine estas la pre grava seno del lingvo lernado erun sono ni provis cun consterno che mia lingvo instruado ne bone efficis exemple ni faris studion pri lingvo lernantoi du jaroi fossla ec lerno cai ni provis che ilia sinteno alla lingvo cai culturo de tio lingvo mal boligis tutta contrava alla selo de eliai instruistoi chi altio ocasis cian chiam lernis alia lingvo la lingvo instruistoi ofte substretis la gravezza la interesse de differenzoi cai ne consiis che eliai lernanto ne interesigias pri differenzoi liciatas la propria cultura cai giuste protio estas cian problemo lerni alian lingvo chi estas de alia popolos la instruistoi devas tre sorme attenti che la lernantoi retenu la valoron della propria cultura cai ne credu che aliai culturoi nepre estas pri bonai char la lernantoi ne acceptas tion cial esperanto estas tiel favorata lingvo quelca e cialoi unua nicias la propedeutican au lerno facilican valoron de esperanto e alessandra madela vercis pacintiade tre utila libron che reforticas la apartan valorum de esperanto caci valoras pro uno el lachialoi che poliglotoi successen lernas lingvoi mi mensis motivadon se li havas motivon lerni i li lernos la dua estas disciplino se vi ne havas disciplinon se vi diras oh morga o mi studos mia lingvo vine atingos iom tre rapido disciplino gravas cae la poliglotoi sias che est grave havi paron havi cunulon cunulinon cae in un caso la individuo in la paro telefonis fine della tago for demandi ci vi faris iain quin tascoim ci vi legis quin minutoim ci vi auscutis iom quin minutoim ci vi studis grammaticon quin minutoim che comprenebile concerna paro diris disiplino tre gravas sed la fria fattoro ciu nepre succesigas lingvo lernadon estas consio pri progreso cai cai lernadon lernadon sed sed esperanto estas malsama esperanto estas regula cai viene con las nom de judith maier uno de niai autodoi del bonega lerno libro en la angla por esperanto cai teo placis ansi cai teo vestigis in la esperanto novado teo estas nia grande avantaggio sento de succeso di exploato teo mi devas diri che en un sono nun on consias che la pre grava efico del lingvo lernado ne estas lernado della lingvo cian multai consias a parte usono che pos lernado della lingvo iri nennion retenas se line habas utilon por tio lingvo se se on instruas culturon pere della lingvo tio restas por cian en la vivo de lo lernado don nun por usona lingvo instruistoi avantgarda la cepat selo lerni lingvo estas lerni inter culturam competenton cia tio multe relatas anche al inter persona competento cia tio helpas cio internantoi cia idunia seminario vi povos lerni cio est astio inter cultura competento cio 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 funcìa cio di cio havas denove grandeggan avantagion en esperanto cio stas facile lernebla cio stas bona voio al lerno de aliei lingvoi cio 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 perdas tempo lernante esperanto cio fac sibigat fri rapidan lerno de aliei lingvoi cio esperanto malfermas ne nur al un sola cultura de un sola lingvo esperanto malfermas horizontoi de lernantoi al voltan culturus lernante di lernante xo lernante esperanto estas vere brilla solvo de luntenta i beso nai de nai mondo que han cio i beso nas flida competento rilate con alle cultur on imensi sap pas i selo in de esperanto e compreneble cial lernantoi un'nue, insieme ai contattoi, lernas chiede identici con gli interessi degli alliei lernanti, mi trovi, sentivi i contattoi, che sporto e musico sono tre universali per gli alliei. Se lernas un'nue, appresi il fatto che gli alliei in alliei culturari avessi punti di contatto con gli alliei, gli alliei interessi, gli alliei hobbioli, chiedi, e li molti fai emoz in che ti tri, che c'è questa differenza, che c'è questa mal sana, che vi avevi per porti al l'ia comune esperto. Lur per esperanto li puoi fare ciò ne fiche. Do, vi diris che mi ne parlo lungo, vi esperas che vi comprendas il messaggio esperando essa la perfetta lingua po' lingua lernato e intercultura lernato. Ne debas nur ciampi esploriti cae uno dei miei seloi è che riorganisu più profondi internaziani esperimenti che provi che ogni parte provi non è la aula studio di Sandra Madela, se nur parte, ne debas parte espli convincai, se c'è cultura faritis uno la c'è faccello del lingua lernato, li utiliguti un avantage, speranto essa è la attuza del lingua lernato ca' intercultura lernato. Do, vi con le dancas, mille. Do, dancan, 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 comprenebre, ci am sprita ca'i cultur plena e vortoi. In la salonna venisse Silvia dei Federalberghi ciù se ci volete dire io Silvia Silvia dei Federalberghi dovete andare via e chiamate tanti saluti in garanzia allora il buon lavoro e la presto. Do, Silvia dei Federalberghi chiede mi diri sant'au e venisse ca'i poste deve fuori ridò ci denove salutas vincivi. Do, post molte d'avortoi nun estes la momento de pausa musico. Musico estes tre grava por esperantistoi compreneble ca'i dumneiai congressoi anche musicoi ca'i arte momentoi estes tre grava e Clarissa Sabatini accompagnos min dumla tuta semaino compreneble mi havas anche o mia infame artisto in ca'i ni habos c'vespere marco migliucci mario migliucci ni habos la pola gruppo mi havas shomó ni habos caito ni habos la teatragio di Franco di denissim ca'i della gruppo denissim do mi diras che musico ca'i arto estes parto de nia cultura anca o mi memoras che anca valia i artoi estos tre gravi dumla congresso ni habos tri clarissa estas preta yes don un estes la momento de pauso por mia menso con clarissa sabatini danken no Restuvi, restuvi, amico dei civi, danzovi, mi danzovi, tra la tuta e l'u, restuvi, restuvi, amico dei civi. E per l'importo nel loro arda mondo, che mi è il suo sfrato, che è il suo cune. E per l'importo nel loro arda mondo, che mi è il suo sfrato, che è il suo sfrato, che è il suo sfrato, mi danzovi, danzovi, tra la tuta e l'u, restuvi, restuvi, amico dei civi, Danzovi, danzovi, tra la tuta e l'u, restuvi, restuvi, amico dei civi, Promeno tra la mondo, che è il passo tra la natura, E per l'importo nel loro arda mondo, che mi è il suo sfrato, che 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 è il suo sfrato, Danzovi, danzovi, tra la tuta e l'u, restuvi, restuvi, amico dei civi. Danzovi, danzovi, tra la tuta e l'u, restuvi, restuvi, amico dei civi. Danzovi, danzovi, di un luogo, che è il suo sfrato, che ha il suo sfrato, E il suo sfrato, che è il suo sfrato, che è il suo sfrato, che è il suo sfrato, che ha la vita, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Amico del Giri Grazie. 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 la lingua capablon. Al fronti vergistoin, chiel pavese, flaiano, ungaretti, merini, signifas havi fortica invasoin, kai nennian timon, kai leghi chiel unua tiuin civerquin estas emozio. Vidini a lingua racconti la vocioin de altrangai vergistoin, de tradiziai fabeloi, de menvergitagioi chiui foie permessas malcovri novain talentoin estas plia pruvo della daura e voluo de esperanto. Don, cara ege congressanui, non honoru tiuin cipur agiuloin ciarciare temis nur primpartoprenantinoi, chio estas ecpli interessa, chio helpis nian lingua progressica ingresci. Iliai lavoroi aperos presforme, ne forgesso accetti, kai frandi la fruttoin de ilia lavoro. No, la partoprenantoi in la concurso nece estas, sed estas citie aliai membroi della iucch commissiono, minestias ciù Carlo Minnaia volas diri nur du vortoin pri la parto de proso, cai tiberio madonna apri la parto de poesio. Se ili volas diri tion pritio? Yes? Carlo venu citie Ecco Accidentoi estas ci ampra Tome tutte le supposis No, no, no Eh, buon volo Mi tutte le supposi esti co chieta citie Chie commissionano della giurio della prosa parto Do, e vistias che estas tu brancio e la prosa, cai la poesia Cai la poesia esta dedicita al Galdenzio Pisoni Dun, la prosa parto, la prosa brancio, estas dedicita a Lina Gabrielli Ciu estas du verkistoi, cai traducistoi, ciu ibere honoras nian italian nomadon La nombro da parto plenoi ne estis tion abunda Tamen alt nivela, vede, oni devas agnosci che Caila electo della originaloi Estis alt nivela, cai tutene facile traducebla Do, onoron alla Gaidintoi, richies nomoi vi nun auscultos della presidentina Cia, mim parcherene con a Sirin Ciu Tiberio Madonna volas iondiri pri la brancio poesio Cilio, intertempo e mi vidis che mia vicepresidento volis imiti la vicepresidentinon falante Cia, mi attendizion sette do nul du voto Pos diri che anche un mi rimarchis entusiasmom Nel aberto plenantoi Mi esis che estas anche un labroso nul pirinoi Dio estas anche un rimarchis da afero La vercoi estis malmultai Cia diris Carolinaia Cia, mi ancora poi e giois Parto plenoi Cia, in la iucch comision Per progresisti Per progresisti La città un concurson Ciu, ci uiare Donas Videblezzon alla linea D'acqua Dio Dio Nune Ni legas la nomoin Della Homo in cui venches la concurson Dio, per la brancio proso Ni havas unua premio e galmerite De Elefteria pigro Pro sia traduco De Doni senzon Dare un senso De Chiara Marletto Cai e galmerite Estes Claudia Maggi Pro sia traduco De la unua canguruo Il primo canguro Tradizia fabelo Per la due premio Estes Maria Gabriella Tarei Pro sia traduco De Printempo Primavera De Clara Sereni Cai la tria premio De nove Claudia Maggi Pro sia traduco Nella casa dello squalo De Claudia Maggi Mem Do Claudia Maggi Ancau Estes en la brancio poesio Che i poste Ni trasdonon La adestilon Per la brancio poesio La unua premio Estes Emanuela Rocco Pro sia traduco De Agonio Agonia De Cesare Pavese La due premio Erika Godo Pro sia traduco Pro sia traducato De Conocto Onotte De Giuseppe Ungaretti Cai denove Claudia Maggi Trea premio Pro sia traduco De Anna Re Anna Re De Nunziante Esposito For Claudia Maggi Estes citie Nadia Dobetti Amichino Che prenaz la A testilo In nome De Claudia Maggi Dancon Venu Do Mi vienes che Estes famai Esperantistoi Che I partoprene Insegna Concurso Sed Ancau Lernando In ogni diras Per esempio Claudia Maggi Estes Ancora Lernando Preparanta La 3 gradan Examen Por Italia Hai due parole Da dire Claudia Ah No Mi Trasdonas La A testilo Al Claudia Maggi Cai Di Dankes Nadia Dobetti Por Otio Dankon To Bone Cai post Concursui Estes la Momento De Salutui Ancau Della Partoprenanto Do Ni Ne Havos La Tempon Por Do Ni Havas Partoprenanto El Dudek Unu Landoi Ni Ni Nur Legas La Liston Estas Italio Polando Franzio Congo Estis Diversa Il Congo se ne Favis Partopreni Pro Problemoi Con l'aviso Compreneble Germanio Hispanio Nederlando Swisslando Bulgario Litovio Finlando Croatio Ucraino Cubo Ancau De Cubo Marisa Ne Poves Partopreni Sed Vi Povos Giui La Prelegon De Marisa Dume La Prelego Ibrida Momentui Jaude Prostad Mese Sembilone Memores Usono Ungario Grechio Irlando Svedio Belgio Bricio In Tutte 21 Landoi Cis Nun Aligis 20 22 Homo Cis Mancas Nur 22 Homo Cis Alvenis Alvenas Estas Alvenantai Alvenos La Venontai Tagoi In Italia Esperanto Federazio Salutes In Nia Federazio Havas Anka Ola Junulara Gruppo Iejo Sed Chievi Sias Dun La Sama Itago De Nia Kongresso In Litovio Malmulte Da Iunului Nihavas Diego Lihavas Alia In La Kongresso Domi Salutes Anka Un Nome Della Presidente Iunului Italio Postel Nihavas Citi E La Presidente De Due Vortoi De Nome De De UEA Un Un Lato 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 E Lato E sare Un Discovering Secure Lato 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 La Viz Presidentino dei Lei, Alessandra Madella. Il Presidente dei Lei è l'Assembleo dei Lei, e ora è stato un uomo che diceva che è un buon bene, se vediamo sempre. Poi, il Presidente dei Lei è vero, che è il Presidente dei Lei, che presenta l'etichetta dell'Iran. Sì, anche per questo, è vero. E questo è un po' molto grande, anche un altro membro di lei e di Grina Gado di UEA. E, alla fine, io ho avuto il seminario di Sepa, e in fin, infatti, il libro servo, questo rappresento del libro dell'Actoide di lei, e che esiste solo uno prescita esempliero di noi, e questo prescita post, pro periodo di pressegno in Italia, in Italia, in questa sfera monata. Tampi, presentando i povosibili che lei lavora per l'Actoide della disposizione del 2022 e del 2023. E, in fine, se vi volete, come si pensi, brevemente, il congresso di lei è in Serbia, e il tema è un'artiparietta intelligente e una lingua mistruata. Quindi, ci sono 3.000 al tema, perché ho scoperto le parole. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a Alessandra Grazie a tutti. 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 per la presentazione dei seminarii e dei corsi.